Parliamo subito di tennis nel giorno in cui l'Italia maschile di Coppa Davis ritrova dopo 16 anni le semifinali superando la Gran Bretagna. Cagliari si appresta a rivivere due settimane intense con il torneo Pasquariello sui campi del Generale Rossi. Tra l'altro quest'anno ricche novità legate anche alla partecipazione ai prossimi internazionali d'Italia. Ci racconta tutto Riccardo di Siena. In attesa degli internazionali d'Italia di Roma prenderanno in via in tutta Italia 14 tornei i quali daranno la possibilità al vincitore di partecipare alle prequalificazioni per il Master 1000 della Capitale. Tra questi è tanto inserito il 18esimo Memorial Pasquariello in programma a Cagliari dal 14 al 27 aprile sui campi del Circolo Militare Generale Rossi. Il torneo sarà quest'anno open, aperto quindi a tutte le categorie ed anche ai giocatori stranieri. È una grande opportunità che la FIT ci ha concesso, quindi è una sfida importante che ci apprestiamo a fare, anche perché si prevede che tutte le migliori racchette della Sardegna siano presenti. E in più anche qualcuno dal resto d'Italia arriverà anche vista la concomitanza dei tornei che ci sono, degli ETF che ci sono in corso svolgimento proprio ora al Forte Villa. Questo è sempre stato un Circolo Militare e questa è un'occasione per farlo fruire anche alla popolazione esterna. Il torneo, nato nel 1986 in memoria del tenente dei vigili urbani Domenico Pasquariello, avrà anche un tabellone femminile. Il numero dei partecipanti potrebbe essere particolarmente elevato. L'anno scorso era chiuso solo ai quarta e le iscrizioni sono state chiuse a 240. Le previsioni sono alte, potrebbero arrivare anche a 400 iscritti. La manifestazione sarà anche legata alla solidarietà, avranno infatti i raccolti dei fondi al sostegno della campagna Vogliamo Zero dell'Unicef.